Ci dispiace che andiate via, Signore. Ci è dispiaciuto anche veder partire il signor Tesla. Ha fatto del bene a Colorado Springs. Signor Anger, non ho ritenuto necessario dire agli uomini di Edison della cassa. Quale cassa? Signore. Perdonatemi se sono andato via senza salutarvi, ma a quanto pare ho abusato dell'ospitalità del Colorado. Ciò che è realmente straordinario non è permesso nella scienza e nell'industria. Forse avrete più fortuna nel vostro campo, dove le persone sono felici di essere mistificate. Troverete ciò che state cercando in questa cassa. E lì vi è scritto uno scrupoloso insieme di istruzioni. Io aggiungo solo un consiglio riguardo all'uso di questa macchina. Destruggetela. Gettatela nel più profondo degli oceani. Un oggetto del genere vi porterà solo miseria. Il monito di Tesla è rimasto inascoltato, come lui ben sapeva. Oggi ho provato la macchina. Ho preso precauzioni nel caso Tesla non avesse corretto i difetti del suo funzionamento. Se qualcosa fosse andata storta, non avrei voluto vivere a lungo in quel modo. Grazie a tutti.